La Renault è una casa che presta tanta attenzione al mondo agonistico. Io sono stato fortunato ad aver incrociato questa loro filosofia negli anni in cui ho gareggiato nella VOL Series by Renault. Ho finito terzo il campionato nel 2007. La Renault usa il mondo delle competizioni per sviluppare le proprie vetture e quindi trasferire il know-how dalla pista alla strada e quindi dare ai clienti o comunque agli acquerenti delle proprie vetture il meglio della loro tecnologia. Oggi a Franciacorta abbiamo provato la Renault Clio RS ed è stata una bella esperienza anche perché provare le macchine in pista è sempre la modalità giusta per farlo, in sicurezza. La vettura dà molta sicurezza, soprattutto nell'impianto frenante ed è assettata molto bene, diciamo, per l'uso quotidiano delle persone. È un pochettino sottosterzante, il che va bene per l'uso di ogni giorno e poi anche perché l'impianto frenante sembra un po' sovradimensionato per la vettura ed è stato un piacere guidarla. Io avrei preferito il motore aspirato, ma anche i turbo, se fatti bene, non mi dispiacciono. Infatti anche questo è un bel motore. Cambio è un altro punto. Non sono proprio stile formula, cioè velocissimi. Richiede un po' di attenzione e cura nel momento in cui si richiede la marcia perché se lo si richiede a regimi non perfettamente in linea con quello che l'impiantore richiede, la marcia non è troppo. A 18 anni l'avrei sicuramente voluto una macchina così soprattutto perché attrae molta attenzione e è una macchina con carattere che, diciamo, è bella da usare. Un saluto dal Master Champion, ci vediamo in pista, ragazzi.